Allora, dobbiamo fare una ventina di minuti di esercizi sulle superfici per chiarire una cosa che è rimasta indietro, che è il telema di colpino per le superfici. Allora, che cos'è il paricentro di una cuba o di una superficie? Facciamo per una cuba, perché poi per una cuba ci deve essere più. Noi abbiamo φ che va da AB in Rm, che è la coordinata x con i di G, chiamiamo G il paricentro di questa cuba a φ, è 1 fratto la lunghezza della cuba a φ per l'integrale lungo φ di x con i di S. Cioè, come il centro di massa, no? Allora, voi immaginate di avere una massa uniformemente distribuita lungo la φ, lungo la lunghezza del φ. Allora, che cosa? Ognuno di questi punti, diciamo, nella cuba a φ, ha una coordinata di x, x con i. Allora, io voglio fare la media di queste coordinate di esercizi. Quindi, come la faccio? Questa è una definizione, però sostanzialmente sto facendo la media ponderata rispetto alla massa, cioè la massa, cioè dS per la lunghezza, la massa misurata dalla lunghezza, dall'elemento d'acqua. Perché la massa sarà proporzionale alla lunghezza dell'abito di una costante. Allora, qui avrò x con i per quella costante per te, se può la costante semplifica, rimane questo integrale qua. Questa è una definizione, quindi alla fine, non è che c'è molto da capire. Però, se vi ricordate, è perfettamente analoga a quella del baricentro di una figura, diciamo, baricentro di una figura che ha un volume, diciamo, di un gran, diciamo, allora abbiamo T con denunine R2, oppure F con denunine R3, che ha una parte interna. Allora, chi era, in questo caso, il baricentro G di, allora, x con i in G, rispetto al, nel caso di T, G di T. Questo era 1 fratto la misura duodimensionale di T, per integrare x con i in, diciamo, vabbè, chiamiamola x, in del x del x, ci siamo in R2, rispetto a t, quindi, la x era la media dell'integrale di x. E per quanto riguarda v, vabbè, dobbiamo fare questo discorso con x in C1 e Z, quindi, x di G di v, è uguale a 1 sulla misura tridimensionale di v, integrale di v, di x in x del x. similmente per la x, similmente per la z. Cioè, cosa dovete fare? Dovete fare l'integrale sulla figura della x, della x, della z, della coordinata che volete fare, della coordinata del baricentro che potete calcolare, e la dovete dividere per la misura. Se siamo in R2 per la misura tridimensionale, siamo in R2 per la misura tridimensionale. Questo è il baricentro di volume, perché si chiama di volume perché comunque stiamo in un numero di coordinate pari, diciamo, la figura ha una dimensione pari a quella della. Poi, qui invece abbiamo il baricentro di una lupa. Il baricentro di una lupa è un oggetto unidimensionale in Rn. Come si fa il baricentro di questo oggetto dimensionale? Si fa l'integrale di un vigno, però si divide per la lunghezza. Ok? Ok. A Dopodiché Dopodiché E qua, a quel campo, ha tutte le coordinate. Questo lo posso definire tranquillamente in Rn. Mettiamo, secondo me, abbiamo sempre messo N. Le coordinate sono i. E va da 1 fino a n. In particolare, mi interessa il baricentro delle curve a valori in R2. Perché? Questo baricentro dipende soltanto dal sostegno, finché si tratta di una curva regolare, dipende solo dal sostegno. E' chiaro che se faccio una parabenizzazione o un'altra parabenizzazione equivalente, sappiamo bene che l'integrale non cambia. Allora abbiamo area di una superficie di rotazione. Allora abbiamo noi abbiamo x, z qui abbiamo una curva sostegno di una curva regolare o regolarità e lo facciamo ruotare attorno all'assezze. Allora questo mi produce una superficie di rotazione. Esempio il banale se io faccio ruotare una semia di circonferenza mi produce mi produce una superficie di rotazione. Allora l'area del teorema di Coutinho delle superfici dice che l'area di una superficie di rotazione è pari alla lunghezza della curva che ruota moltiplicata per la lunghezza percorsa dalla paricina. E questo vale per ogni rotazione sia completa sia incompleta cioè ovviamente se faccio una rotazione completa di 2π il baricentro percorrerà una circonferenza pari alla distanza da z allora il baricentro di questa curva più o meno sarà qua non è detto che il baricentro della rupa sia sulla rupa allora la lunghezza di questo raggio è 2π se faccio mezzo giro sarà per piccolo ma in ogni caso produrrò mezza superficie quindi si troverà ok ora questo non lo costruiamo ma non è difficile costruire lo lasciamo perdere facciamo semplicemente un'osservazione per quanto riguarda il baricentro di un segnicetto e di una serie circonferenza allora prendiamo un semi circonferenza di raggio r ok allora qui abbiamo due baricentri questo è x e questo è z abbiamo un baricentro e un altro baricentro ah scusate un baricentro sarà qua più o meno e l'altro baricentro sarà qua a che mi riferisco uno è il baricentro della figura piena cioè del semicentro e uno è il baricentro della sola semicinconferenza cioè è chiaro che se io metto una massa soltanto su questo mezzo anello il baricentro potrebbe non coincidere perché la distribuzione di massa non è la stessa di quella del semicentro e quindi insomma il semicercchio ha molta massa più vicino all'asse la semicinconferenza ha più massa se io metto un filo che pesa 100 grammi questi 100 grammi in media saranno più distanti dall'asse z rispetto a 100 grammi spalmati su tutti i semicercchi andiamo a vedere che il budino ci aiuta a calcolare questi due questi baricentri per questione di simmetria stanno sull'asse x e come ho messo la sinicconferenza qua siamo meno e qua siamo l'unica invece la coordinata x del baricentro è più difficile da capolare però noi cosa sappiamo la semi il semicentro area pi greco r4 mezzo questa è l'area del semicentro per 2 greco x semicirchio chiamiamolo eh sì però semicirconferenza qua diciamo ehm chiamiamolo g l'altro chiamiamo questo chiamiamo g brin l'altro chiamiamo g secundo questo deve fare il volume della sfera vi ricordate il problema di puntino per il volume no? l'area che vuole per ehm diciamo la lunghezza descritta dal baricentro facciamo una notazione completa mi deve dare il volume della sfera cioè 4 decisi di greco è del tre quindi x g primo è uguale a ehm vediamo un po' eh sì qua di pi greco ce ne stanno due e quindi viene 4 su tre pi greco per l divido per l x g primo questo è il semicirconferenza andiamo a vedere quando riguarda la semicirconferenza in questo caso la lunghezza che vuota è pi greco r perché la lunghezza della semicirconferenza è 2 pi greco r per questo è x g vedete vedete che 4 su 3 pi greco è minore di un mezzo quindi diciamo rispetto appunto a un mezzo alla metà di r mezzo r questo sta a sinistra invece per quanto riguarda la semicirconferenza pi greco a r per 2 pi greco x g secondo questo è uguale a 4 pi greco per 4 anche qui x g secondo è uguale a 2 sul pi greco per m anche qui di pi greco ci stanno dur però cambiano le costanti patate questo è il caso della semicirconferenza di riconferenza quindi quindi 2 su di greco è maggiore di un mezzo questo invece rispetto appunto un mezzo è restato a destra quindi vedete che avete più massa a destra che a sinistra rispetto a mezzo se io prendo la metà di r questo sta diciamo la massa del si vede insomma si vede anche a 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 c'è c'è più massa qua che qua per se che c'è io e qua invece avete più lunghezza qua che qua questo va ad esempio dipende la figura se qua avessi molti no il vale cento e basta dipende da come allora per esempio nel caso diciamo il grano di grudino valgono sempre valgono per esempio se io prendo prendiamo un diciamo un lato fatto così qui abbiamo r e qui abbiamo h x e z allora questo quando ruota che genere? la superficie laterale di un colpo allora ma la lunghezza che ruota chi è? è la radice di h quadro più r quadro ma il baricentro dove sta? questa sequenza sta a metà quindi la distanza dall'asse z è r mezzi quindi adesso quando fai una notazione completa hai 2 pi greco per questo per r 2 pi greco r mezzi per questo questa è la lunghezza che ruota questa è la lunghezza che è scritta al baricentro quindi cosa viene? pi greco r per la radice di h quadro di h quadro e questo coincide è che questa è la superficie del cono è la circunferenza di base che è la potenza di un prodotto di isola quindi questa cosa si può fare benissimo per esempio per un tronco di cono per fare il tronco di cono non pensate di ricordare la formula della superficie che è demenziace pensarsi di ricordare fate il tronco di cono se avete un tronco di cono dovete calcolare la superficie semplicemente ricostruite il cono poi fate l'area laterale del cono del cono grande meno l'area dell'area del quadro piccolo e l'area laterale del tronco di cono e poi mettete l'area del basso oppure se questo è di rotazione intorno all'asse z prendete questo prendete il punto medio che è il baricentro prendete la lunghezza di questo moltiplicate applicate i punti e le fa quindi diciamo poi ci vuole bisogna un attimo prendere un po' di pratica e bisogna prendere un po' di pratica e diciamo fare molti esercizi allora noi facciamo ecco per esempio facciamo tempo a fare un solo esercizio supponiamo di avere questo solito qua allora io vediamo un po' la traccia e la trovo ok allora qui ho l'origine 3,0 e 0,7 quindi un triangolo fatto così qua stiamo a 3 e la stiamo a 6 poi ci tolgo il cerchio il cerchio allora di centro 2,2 e di raggio a 2 e qui stiamo qua raggio 1 più o meno c 2,2 raggio poi considero questa figura che è finita ci tolgo la parte interna di questa si meno e ottengo questa più la faccio vuotare attorno all'asse questo lo chiamo x questo lo chiamo z la faccio vuotare attorno all'asse z vuol dire avere volume e area della superficie di questa allora prima di tutto andiamo a controllare che 2,2 sta su questa questo lato qua l'equazione x uguale scusate z uguale z uguale 6 meno 2x che vedete 0 vale 6 3 vale 0 a 2 vale 2 ok questa equazione di questa retta qua z uguale 6 meno 2 ora come quando ruota questa che produce produce un 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 gono scavato esternamente se lo faccio ecco se facevamo il compito di natale me ne facevo 2 o 3 facciamo l'albero di natale ok allora voglio sapere il volume questo volume non è difficile da calcolare si può calcolare con varie formule ma con puntino è meglio allora con puntino tu che devi fare hai il volume del cono volume cono e quanto è uguale tu hai l'area di base che è 9 di greco per l'altezza che è 6 diviso 3 fa 18 di greco questo è il volume del cono non scavato poi ci devi togliere questa figura qui che scava ma questa qui è una figura di rotazione allora dove stai? allora prodotto dalla rotazione di che cosa? di questa parte che vado a fare bianca di questo semicecchio questo semicecchio dove ha il baricentro? il baricentro si trova a qua allora si trova sulla sull'asse di simeria del semicecchio a una distanza da questo punto fai a 4 3 4 su 3 p che è come r ma r vale 1 quindi è 2 diciamo x g diciamo g del semicecchio è il punto 2 2 meno anzi più 4 su 3 p per il per il di questa direzione qua ma questa direzione qua è diciamo questa qua è 3 meno 6 quella là è meno 6 meno 3 fratto siccome ho mezz'ore anzi facciamo meno 2 meno 1 fratto la dice vediamo un po' se torna allora sì più o meno 2 in particolare chi mi interessa? mi interessa la x la x del paricentio x g è uguale a 2 meno 8 su 3 pi greco radica c ok? allora io che devo fare vediamo un po' 8 fratto 3 pi greco è già minore di 1 fratto radica 5 è minore di 1 mezzo quindi qua stiamo a 1 e mezzo 1 6 e se trovo perché questo qua è girato un po' di qua e quindi scende proprio allora io che cosa devo fare? il volume della parte scavata il volume da sottrarre da sottrarre è uguale a 2 pi greco per 2 meno 8 fratto 3 pi greco radica 5 per pi greco mezzo perché l'area della più greco è pi greco per la cioccolata diviso 2 quindi pi greco mezzo e per la lunghezza rispetto al baricentro sono 3 e fai oh nel caso se voglio calcolare con la superficie devo fare la stessa cosa soltanto che il baricentro qua ci dovrò mettere non qua ci dovrò mettere sempre meno 2 meno 1 fratto radice di c qua invece ci dovrò mettere 2 su pi greco perché stavo calcolando il baricentro di questa conoscenza però attenzione che quando vado a calcolare la superficie non devo fare volume meno volume ma devo fare superficie laterale del cono poi superficie di base del cono poi il pezzo generato nella rotazione da questo segmento pure me lo devo calcolare devo togliere la superficie laterale del tronco di cono e la devo sostituire con la superficie laterale generata in questo modo quindi fate attenzione che quando scavate la figura voi non state voluto togliere un pezzo quel pezzo ha questo volume fate 1 per 1 per quanto riguarda la superficie state sostituendo un pezzo di superficie che dovete togliere quello generato dal segmento con un altro pezzo di superficie che state creando scavando creare un altro pezzo di superficie quindi dovete togliere quello generato da questa qui e mettere questa qua quindi questa qua la dovete addizionare questa la dovete togliere quella generata dalla seconda quella generata dalla circonferenza la dovete addizionare questo qua lo potete finire qua ci metti 2 su pi greco qua ci metti pi greco per la lunghezza della circonferenza qua ci metti diciamo la superficie generata e superficie laterale generale semia circonferenza e 2 pi greco per 2 meno 4 su pi greco radica al 5 per pi greco perché qua c'è ovviamente 2 su pi greco quindi viene 2 su pi greco per meno 2 su radica al 5 fa meno 4 su pi greco radica al 5 per 2 pi greco per questa della r per la lunghezza della circonferenza che è il pi greco e quindi questa è la superficie laterale da aggiungere quella da togliere è più facile da calcolare è lunga 2 e il baricentro sta a 2 quindi 4 pi greco per 2 è 8 pi greco ok poi quindi dovete calcolare la superficie laterale conica non l'abbiamo fatto sono tutte cose facili da fare va bene quindi completate questo esercizio e diciamo per oggi basta grazie a tutti Grazie.